Un'altra RSA della provincia di Foggia aggredita dal Covid-19 dopo Troia, Bovino, sempre sui Monti Dauni. Questa volta la struttura interessata è il girasole inaugurata solo un anno fa. E' stato riscontrato un caso di coronavirus, una signora di 80 anni, malata terminale e da tempo ricoverata presso il girasole. Ora la donna si trova nell'ospedale d'avanzo di Foggia, in isolamento. La direzione della RSA di Bovino, d'intesa con l'amministrazione comunale, ha predisposto la quarantena preventiva per il personale, il punto con il sindaco Enzo Nunno. Sono state tempestivamente prese misure cautelative pur non avendo ricevuto dagli organi preposti l'ufficialità della notizia. La direzione della RSA ha provveduto all'isolamento all'interno della struttura sia dei dipendenti presenti sia degli ospiti. Inoltre sono state predisposte brandine e viveri per favorire l'isolamento. Chiaramente per il personale che al momento della notizia non era presente in struttura è stata imposta la quarantena presso le proprie abitazioni, predisponendo anche per loro misure di assistenza fornite dal centro operativo comunale ai fini di agevolare la quarantena.